Ed ora torniamo a Trento che è una delle città in Italia dove questa è la Notte dei Ricercatori. Alle 17 albia la Notte dei Ricercatori con l'inaugurazione all'ingresso della Facoltà di Lettere e Filosofia di Via Tommaso Gar. L'evento per diverse ore in contemporanea con tante altre città europee anima Trento facendo scoprire ai cittadini il lavoro dei ricercatori, le peculiarità del metodo scientifico, tanti progetti e attività portate avanti dall'Università di Trento ed altre istituzioni di ricerca fino alle due di notte. L'ospite dell'edizione 2012 è Luca Mercalli, divulgatore scientifico e volto noto per le sue apparizioni televisive accanto a Fabio Fazio in Che Tempo Che Fa. Dopo successo di pubblico nello scorso anno con la conferenza spettacolo di Mario Tozzi, la Notte dei Ricercatori di Trento si affida quindi a un altro personaggio pubblico di rilievo che nella sua carriera ha saputo avvicinare il grande pubblico ai temi della ricerca. Luca Mercalli interviene alla Notte dei Ricercatori con una conferenza dedicata al tema dei cambiamenti climatici, ma tanti sono gli appuntamenti e le proposte previste per la serata. La Notte dei Ricercatori è promossa dall'Università di Trento in collaborazione con altre istituzioni di ricerca provinciali, aziende e centri di ricerca. Alla Notte dei Ricercatori sono previsti 86 stand con attività interattive, 12 laboratori e 21 microconferenze, micro perché durano al massimo un'ora, presso la sede principale dell'evento, la Facoltà di Lettera e Filosofia. Da Piazza Duomo partono invece ad orare stabiliti i tour, 7 passeggiate alla scoperta delle tracce di ricerca in città, guidate dagli stessi ricercatori. E allora per questa lunga notte dei ricercatori abbiamo sentito proprio il Presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli, al quale abbiamo chiesto come sta il Trentino dal punto di vista dei cambiamenti climatici. Se la devo confrontare con il resto d'Italia io vedo la situazione del Trentino assolutamente privilegiata, ci sono purtroppo pezzi d'Italia assolutamente devastati e con una qualità della vita bassissima se la confrontiamo con quella del Trentino. Poi è ovvio che i problemi ci sono ovunque e ci sono anche qui, penso che semplicemente qua si parte da un livello così elevato che bisogna fare attenzione a non perdere ciò che si ha. Poi per il resto io sono dell'idea che rispetto anche soltanto alle Alpi Occidentali, da dove provengo io, verrei volentieri ad abitarci.